lei quella mestarella de carta de props io andrei avanti altri 30 minuti le imitazioni sono il mio divertimento grande insomma siamo stati bene con Max Tortola in Sudafrica potete capire che siamo stati bene l'abbiamo accolto siamo stati veramente molto bene voi immaginate che vuol dire dormire per 5 notti nel loggio con due donne così belle e non poter far niente e tornare a Roma a Piazza Irnerio dove abito io e ripensarci tutte le sere quindi Pretoria è stata una mano santa diciamo Pretoria è stata una mano santa Pretoria ho scoperto il massaggio cinese che a Roma purtroppo non esiste che spero che arrivi piano piano la massaggiatrice cinese la massaggiatrice cinese che mi arrivava la cinta e non avendo la cinta perché avevo la cappatoia voi potete immaginare dove mi arrivava mi ha fatto stendere voi fidete ma non è uno scherzo grazie consigli per gli acquisti consigli per gli acquisti buoni grazie bene Giorgio Panariello e intanto complimenti pur ancora non avendo visto il film diciamo la tua carriera tu sei attore comico scrittore autore di testi Oscar televisivi e telegatti come collochi questa esperienza del Natale in Sud Africa è un'esperienza come hai detto giustamente te quindi sono cose che aiutano a crescere anche queste perché non avevo mai fatto un film come questo ed è un film assolutamente difficile rispetto a quello che si possa pensare perché bisogna stare ai tempi bisogna anche concedere spazio agli altri e credimi per uno che magari è abituato a essere lavorare da solo dividere il proprio diciamo così mestiere con un altro è sempre molto difficile e invece in questo caso è stato facile perché Massimo mi ha aiutato molto devo essere sincero nonostante non avesse la tecnica comica ma era la tecnica di questo genere di film e quindi condividere con Christian De Sica che reputo sia il principe della commedia all'italiana oggi è stato veramente molto molto per me mi ha fatto crescere ancora dai sono quelle cose che fai volentieri poi mi piace fare tutto mi piace sperimentare tutto e questa è un'altra cosa che ho fatto che mi piacerà ricordare bene tu nel film sei in Ligabue bue meglio dire quindi un macellaio uno che ha tante macellerie nonostante il mio amico Luciano Brigabue non è che è molto d'accordo su questa cosa però sì c'è una serie di macellerie ho un po' di soldi da parte quindi decido di comprare il fucile migliore andare a caccia grossa con il mio amico Massimo e sull'aereo incontro Belen lì scatta la gara fra me e lui a chi la conquisterà lei si chiama la desse ma un ce la danno e sono dei due e quindi è così la trama è molto semplice quindi non c'è da un finale che non si può dire perché il film non è il sesto senso questo è il film di Natale ed è divertente e serve per quello per far divertire Belen tu invece sei una ricercatrice a caccia di un insetto particolare ecco quindi per colpa di questo insetto ti trovi due calabroni alle spalle sì sì la sintesi è buona sì io sono un'entomologa e quindi sono alla ricerca di questa farfalla chi è? è il brugo della farfalla del paradiso no l'hai detto un'altra volta sì è il brugo della farfalla del paradiso e quindi in realtà sono disperata quasi per la ricerca di questa farfalla qua e faccio di tutto per trovarla la trovi alla fine? più di una ne troviamo tante il film è molto colorato nel finale quindi non ti dico altro vabbè naturalmente noi stasera lo vedremo poi i nostri telespettatori andranno a goderselo a Natale tu che sei ormai al centro della scena da un po' di tempo adesso ti spetterà anche Sanremo hai avuto questa esperienza accanto a dei grandi come l'hai vissuta? io ti dico che comunque nella mia piccola carriera sono stata molto fortunata perché ho iniziato con Amendola e con Teo Mamucari poi ho seguito il tutto con Cristiano De Sica poi faccio il film ho accanto Giorgio Panariello e Massimo Ghini quindi sicuramente che il mio successo lo devo lo devo tanto a loro perché sono i migliori dei migliori e quindi per me è tutto è tutto più facile e adesso Sanremo? adesso Sanremo e in fianco a Morandi la Canaris Luca sì già Luca e Paolo sì no 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 quello non non si è fatto ancora quindi aspettiamo vi siete divertiti? molto moltissimo esperienza che rifarei però probabilmente tornerei in Sudafrica per un vacanza perché è stata è stata molto molto dura sì pesante perché mi ricordi uno dei Poo chi in particolare? un po' tutti l'hai incarnati tutti in una botta sola grazie leader carismatico di un complesso musicale italiano degli anni 75-80 e potresti andare pure al programma di Carlo Conti a sto punto che anno era Carlo Conti amico di Panariello mi devo raccomandare a lui esatto e poi magari una sera arrivi te che presenti una canzone va bene devo cantare per forza poi sì anche perché ho sentito che insomma sei molto bravo a fare le domande sicuramente sarai anche bravo musicale e quindi saprai anche cantare ti presento i miei riconosciamo però prima visto che stiamo parlando con te Max Tortora allora tu sei davvero un artista comico importante in Italia vivi nelle famiglie italiane con la quotidianità dei Cesaroni naturalmente e voglio sapere come hai vissuto questa esperienza di Natale in Africa l'ho vissuta come una naturale evoluzione della comicità della specie dice la mia collega va anche della comicità che si può trasportare tranquillamente dalla fiction al cinema e viceversa a seconda di quello che passa al convento in quel momento ma in questo caso specifico io mi sono molto divertito perché ero in compagnia del mio maestro e amico fraterno Cristian De Siga dal quale ogni giorno si impara moltissimo io poi ti devo dire è uno dei pochi che nella vita mi fa ride perché mi fa ride nessuno nella vita tranne un paio uno che ti fa ride anche nella vita che è fondamentale quindi noi abbiamo lavorato e ci siamo divertiti nonostante vi siate contesi due donne così importanti capito che roba guarda che ci hanno messo da vicino siamo state noi molto fortunate due compagni di lavoro un grande maestro come Cristian due grandi figaccioni così che fanno sport vero? vanno sempre in palestra insieme insomma non è vero insomma io sono ex moglie di Cristian attuale moglie di Max si vede dalla posa anche vero che sto così plastica dai abbracciala posso abbracciarla? non mi abbraccia no perché non vorrei che la Escrivelle poi si ingiulosisce perché ha lavorato con noi anche Laura Escrivelle che ha fatto il mondo di patti che lui sa la conosce bene mi ha chiamato a fare il nonno il nonno di patti faccio il nonno di patti allora Serena quindi ti sei divertita alla fine fare commedia comunque vuol dire anche quello a parte è un modo per come dire mettere in funzione altre corde per un attore ma il film di Natale è proprio la ciliegina sulla torta e con loro mi sono divertita a morire anche con Barbara grande compagna di lavoro è stato molto bello ecco Barbara tu sei stata sempre protagonista nel mondo del teatro accanto a dei nomi illustri che chiaramente ti hanno dato un po' una qualifica professionale quella del teatro che è di tutto rispetto come hai vissuto questa esperienza del film Natale in Sudafrica e chi dei due poi è stato quello che hai preferito diciamolo tra le linee beh dove ho tinto dove vi prego facendo teatro in realtà ti puoi permettere poi di fare tutto perché ti dà una base strutturata molto forte e quindi puoi fare la commedia puoi fare il dramma puoi far ridere e puoi far piangere però stavolta mi sono trovata accanto al colui che fa la commedia in Italia il re della commedia e io ho l'onore di essere la moglie nel film quindi è stato un grande onore e un grande regalo che mi hanno fatto forse dovevo pagarli io per questo film di Natale perché è stata un'emozione troppo grande comunque sono cresciuta a pane cristiane tutti i suoi film conosco a memoria ma no è un ognoco a me mi porta una sfiga io mi sento ancora un ragazzino ma sei un ragazzino sei buono quella è arrivata per i tuoi 60 anni mamma mia ma ancora non c'è l'oma allora parliamo dei 93 film che hai girato con questi perché ho cominciato giovanissimo ho cominciato a 18 anni per quello ne ho fatti tanti poi io ci metto dentro pure le comparsate non è che ho fatto sempre il protagonista comunque 27 film di Natale sono tanti non so neanche come sono arrivato mi sembra ieri di stare sempre in questa stanza a fare le conferenze stampa quest'anno sono molto felice perché ero partito un pochino così cagadubbi sul film perché venivamo da un altro film quindi la sceneggiatura era stata scritta e riscritta un po' a corsa e invece devo dire che grazie a neri parenti gli sceneggiatori e soprattutto all'apporto che mi hanno portato alla storia stessa questi fantastici colleghi che ho qui accanto a me è venuto fuori un film molto comico ma anche questa volta pieno di avventure di movimento di azione proprio perché è ambientato nell'Africa la fotografia di Luciano Topoli è straordinaria e quindi io dico venite al cinema dal 17 di questo mese a vedere Natale in Sudafrica perché non ve ne pentirete e con 7 euro o 7 euro e mezzo costa oggi un biglietto per il cinema vi passate una meravigliosa vacanza un grande complimento a quello che è la commedia italiana a questo punto assolutamente sì la commedia ha tutti gli effetti noi ci siamo divertiti speriamo di farvi divertire diamo appuntamento al 17 dicembre Natale in Sudafrica scusate questa è la polvere dalla savanna che torna tutta insieme solo al ricordo io direi vogliamo cantare la canzone Natale classica quella che facciamo inizia te inizia te inizia lui oh happy day oh happy day oh happy day ci avevamo preparare un po' meglio però insomma tanta serenità a tutti Luigi come si diceva prima in conferenza stampa ci sono dei grandi nomi che gli altri non siano stati da meno nelle edizioni precedenti però qui abbiamo notato che si è alzato un tantino diciamo il repertorio e ciò che la storia pregressa dei protagonisti di questo film come mai? ma io penso che da anni noi continuiamo ad aggiungere a rinnovare questa scuderia di attori all'interno del film di Natale per un semplice motivo la concorrenza è molto forte quest'anno ancora di più il mercato è pieno di novità e di film durante il periodo natalizio che è uno dei periodi più redditizi dell'anno quindi insomma per essere sempre al passo con tutti gli altri per non essere da meno il film di Natale non può e non deve deludere perché come per il pubblico è una tradizione da anni anche per noi come famiglia è una tradizione da anni ogni anno per noi è un appuntamento imperdibile ed è diventata anche una responsabilità cioè quando ci sediamo ogni gennaio a decidere il prossimo film di Natale lo prendiamo con grande serietà e responsabilità anche in Natale a New York avevamo quasi 9 attori quest'anno ne abbiamo 10 che sono veramente tanti però anche lì all'epoca cambiamo un po' tutte le carte in tavola con l'arrivo di Claudio Bisio Fabio De Luigi arrivò la Ferilli c'era Ghini che ritornava al suo secondo anno quindi anche lì fu una grandissima operazione e ogni 3-4 anni cambiamo le squadre l'altro anno c'erano Gasman e Tognazzi e quest'anno ci sono Giorgio Panariello c'è Max Tortora c'è Belen Rodriguez Barbara Tabita serenautieri sono molto contento di una presenza femminile importante perché per me è molto importante il pubblico femminile è maggiore rispetto al pubblico maschile quindi avere delle presenze femminili che sanno recitare e sanno fare bene il proprio lavoro all'interno della commedia non è facilissimo a trovare quindi sono molto contento di questo cosa ci aspetteremo adesso della vostra produzione? adesso i prossimi progetti in uscita a fine febbraio avremo Manuale d'amore 3 che anche quello ha un super cast Robert De Niro Carlo Verdone Monica Bellucci insomma di tutto e di più Scamarcio La Chiatti La Finocchiaro quindi veramente un cast al completo e poi usciremo con Amici miei a metà marzo anche lì Michele Placido Christian De Sica Massimo Ghini Paolo Endel Ceccherini Panariello quindi insomma noi ci siamo affilati le armi per arrivare al cinema e soprattutto dare un grande piacere al pubblico Presidente De Laurentiis un cast d'eccezione fotografia magistrale Oscar addirittura quindi si parla di grandi numeri in famiglia De Laurentiis anche considerato il fatto che a febbraio e a marzo ci sono due progetti importanti che si rendono concreti il direttore di fotografia ha fatto tanto cinema in America e ha fatto soprattutto i film più importanti di Francis Weber dalla cena dei cretini a tanti altri è un direttore di fotografia straordinario che ha ridato anche quei colori della mia Africa che in un film popolato da italiani un po' caceroni come sono i nostri attori sembra cozzare quasi sembra un paradosso ma in realtà l'Africa è talmente bella fa talmente sognare quando si dice il mal d'Africa e quando tu vedi questi paesaggi in qualche modo capisci che cosa voglia dire e questo è un film estremamente divertente complicatissimo complessissimo diverso molto diverso dagli altri precedenti perché poi a parte un cast così eterogeneo ci sono delle new entry come Belen come Giorgio Panariello come Max Tortora ma soprattutto c'è anche un autieri una tabitta fantastica tutte e due bellissime donne ma c'è anche la Patti la Patti del mondo di Patti a me mi fermano le ragazzine a me strade e mi dicono ma Patti Patti quando viene che è la famosa Laura Ischivella argentina come Belen quindi io quest'anno nel cast ho una squadra di argentini nel mio Napoli ho una squadra di sudamericani argentini uruguagli dico quindi io ci sguazzo ma la cosa straordinaria è che in questo film chi sono i coprotagonisti cosa che piacerà molto sia agli adulti che ai bambini che ai teenagers sono gli animali stessi per cui noi vediamo che invece di essere un semplice arredo non so gli elefanti fanno un'azione interagiscono in delle gags con Max Tortora e Christian De Sica i coccodrilli interagiscono con Giorgio Panariello e Massimo Ghini un ippopotamo che è l'animale più feroce più pericoloso non sembra con la sua mole sembra quasi un pachiderma disneyano ma in realtà invece è pericolosissimo interagisce anche lui con Max Tortora e De Sica Panariello addirittura ha un'avventura con un leone che non posso raccontare ma che è estremamente divertente innovativa originale incredibile quindi voglio dire tra babbuini scimmie che rubano occhiali ai chirurghi in azione questa e quell'altro la gente secondo me si divertirà moltissimo poi in questo film abbiamo anche dato una svolta perché in maniera avventurosa si dipanano e si svolgono le storie e abbiamo un Christian De Sica che di solito era uno stangatore invece stangato dal proprio fratello che avrà tutto un percorso di grande rivincita e di finale vittoria quindi è un ruolo diverso che lui non ha mai interpretato il film è un film estremamente spettacolare ricco ma estremamente divertente e credo che la gente rimarrà sorpresa quest'anno per la originalità e per la diversità dai precedenti e a febbraio a marzo e a febbraio a marzo poi arriverà e ci vedremo in quell'occasione per il film Manuale d'Amore 3 dove avremo Verdone Bellucci Scamarcio che è un vostro conterraneo insieme a Robert De Niro quindi voglio dire ci divertiremo e poi c'è il ritorno dopo 25 anni sulla scena dei famosissimi amici miei che abbiamo così voluto riportare alle origini infatti si chiama proprio amici miei come tutto è benizio ambientato alla corte di Lorenzo il Magnifico chi vuole essere lieto sia di domani non v'è certezza come mi sembra poi del resto reciti la nostra vita quotidiana tutti i giorni no? Boccalupo tanti complimenti grazie quanto è costato questo film? guardi ancora non ho fatti i conti è meglio che non li faccio perché se no mi viene da non passare un sereno natale perché questo film è durato tantissimo in Sudafrica quando uno va in mezzo alla savana sai quando parti non sai quando ritorni con gli animali sai quando metti la macchina da presa per terra ma non sai quando l'animale si deciderà di passarti davanti e di fare quella azione che tu desideri e poi voglio dire non è facile girare anche con i nostri attori a contatto con certe belve o con certi animali perché bisogna anche stare attenti e cautelativamente proteggere i nostri protagonisti se no è troppo facile diventa un gioco del massacro tanti auguri di Natale di buon anno di tanta serenità a voi tanti auguri buon Natale i miei tre spettatori vengono a sapere che sono venuto qui senza salutarvi mi linciano quindi salutiamoci dalla bionda dall'ex bionda dalla bionda alla bruna che dobbiamo fare buon Natale a studio 100 tanti auguri buon Natale felice anno nuovo tanta serenità tante cose belle veniteci a vedere al cinema Natale in Sudafrica seguiteci 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 grazie ragazzi in bocca al lupo crevi ciao diciamo che ci hanno abbastanza incuriosito i protagonisti di questo cine panettone di Luigi Aurelio dell'Aurentis avranno visto bene ci sarà stato un grande contributo a proposito di fotografia di testi di gag di battute lo scopriremo soltanto andando a vedere questo cine panettone natalizio grazie per essere stati con noi dall'hotel Vesuvio a Napoli è tutto e a presto risentirci per me no grazie per me è studio 100 per me no grazie per me è studio 100 ciao per me no grazie per me studio 100 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 per me no grazie per me no grazie per me no grazie per me no grazie